Purtroppo qui non è un fatto di moduli o di cose, è un fatto che probabilmente abbiamo anche noi i nostri problemi che stanno emergendo. C'è poco da andargli a girare intorno. Se per 80 minuti riesci a tenere la palla e non è che hai creato l'inverosibile, no, parliamoci chiaro. Vuol dire che anche noi qualche problema abbiamo, noi dobbiamo prendere atto. La realtà secondo me in questo momento è questa, poi ognuno può, si può dare colpa a chiunque, quando uno ti dà le colpe te le devi saper prendere e portarle dietro. L'allenatore sono io, problemi ce l'ho io, ce l'ho da risolvere io. Il problema ce l'abbiamo e lo dobbiamo risolvere. Tutto qui, è inutile girarci intorno, se no non siamo nemmeno realisti. Però una cosa possiamo fare, avremo dei limiti, avremo tutto, però bisogna sputare sangue. Perlomeno far vedere che noi vogliamo fare qualcosa di buono. Poi non ci si riesce, non fa niente, perché forse vengono fuori dei nostri limiti, a iniziare dall'allenatore fino al magazziniere, come dico sempre. Però quello che dobbiamo fare è lottare su ogni pallone, forse prima lo facevamo di più. Se non ci vengano questi benedetti risultati, un motivo ci deve essere. Noi lavoriamo dalla mattina alla sera per sistemare questi ragazzi in qualche maniera. Siamo aperti a ogni cosa, cerchiamo di dare una mano su tutto, però stiamo facendo veramente fatica. Però nessuno molla, nessuno ha intenzione di mollare. Dobbiamo finire il campionato in un modo consono a questi ragazzi, alla società, all'ambiente, perché così veramente ti deprimi se no. Grazie. 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 Grazie.